Musica 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 Naturalmente questa settimana Santa la vivremo in questo modo strano ma non per questo questa settimana perde il suo valore il suo significato anzi forse lo assume ancora di più proprio perché sentiamo come la passione di Cristo sta veramente attraversando anche la nostra carne, la nostra vita la nostra storia noi vi ricordo semplicemente quelli che sono un po' le celebrazioni che anche come comunità andremo siamo ridotti veramente all'osso naturalmente ecco dopo l'accertazione di questa messa di oggi c'è la domenica delle palle ecco noi come comunità parrocchiale celebreremo l'eucaristia in cena dopo il giovedì santo alle ore 17 e ci sarà la possibilità anche di seguire la messa centrata appunto qui nella chiesa parrocchiale attraverso la radio parrocchiale e in diretta sul Facebook dei miei minuti e poi la messa sarebbero una domenica di Pasqua alle ore 10 ecco la messa sarà ancora possibile e la celebraremo qui nel nostro parrocchio e sarà possibile ancora seguirla come oggi con i giorni ecco attraverso i canali che prima di accettare ecco le grandi celebrazioni della Settimana Santa ecco vi inutiamo a seguire ecco non come si sente come uno spettacolo ma veramente con idee e con devozioni attraverso i canali ecco che da chiunque soprattutto gli altri mezzi che oggi sono a disposizione ci rendono possibili ecco in particolare siamo invitati a seguire le celebrazioni della nostra diocese con il nostro Vesto su un'ultimo verbo oppure le celebrazioni della Dora con il Papa Francesco attraverso i 2000 e spesso anche i rai tra gli uomini ecco gli orari che ci sono stati ricordati per tutto li vedete eventualmente sono scritti anche su per chi ha la possibilità di essere raggiunto diciamo sul progetto della della messa ecco poi ricordo che anche il volentino il volentino parrocchiale non ovviamente non può essere non è stato stampato non può essere distribuito ecco in questa passione in questa Pasqua però lo potete trovare per chi ha la possibilità sul sito della parrocchia facebook parrocchia almeno San Salvatore e sui social messi gentilmente a disposizione come telegrande ai nostri oratori San Salvatore appunto anche su facebook del video ecco vedo sui sul foglietto che che mi è davanti si ricorda questo oggi il 45esimo della mia ordinazione sacerdotale ecco vi ringrazio ecco per me per questo ricordo e naturalmente vi affido soprattutto la vostra preghiera e oltre che naturalmente sempre alla vostra amicizia e comprensione e ora imbocchiamo la benedizione del sicuro ecco la imbocchiamo su tutti noi su tutta la nostra comunità parrocchiale ma in modo particolare la imbocchiamo sulle tante persone che stanno soffrendo ecco causa questo che siamo tutti gli ammaranti diversi anche dalla nostra comunità che sono nelle nostre case che sono negli ospedali nelle case di tutta ecco ci affidiamo ecco in modo particolare in particolare a loro e affidiamo loro in modo particolare naturalmente al Signore e naturalmente ricordiamo che tutte le persone i loro familiari innanzitutto che soffrono con loro tutte le persone che si stanno dando da fare ecco per alleviare queste sofferenze per sostenere queste patiche ecco ci siamo già primi con un personale medico gli intervieri i medici il personale sanitario in genere le tante persone che sono all'opera volontari ecco per sostenere veramente questa prova dura e difficile che stiamo attraversando soltanto le persone che lavorano che operano in questa direzione vogliamo tutti veramente affidare all'aiuto la forza coraggio che può venire soltanto dal Signore e in questo momento non possiamo ecco non ricordare anche tutti i veri in particolare in particolare anche dalla nostra comunità della nostra parola non abbiamo potuto ecco neppure salutare e curare ma non per questo noi li vogliamo li vogliamo dimenticare anzi siamo loro particolarmente vicini e li attiviamo nel momento il Signore e in modo in particolare attiviamo il Signore ecco l'ultimo purtroppo di questo elenco che sta diventando diciamo sempre più ampio ecco l'ultimo dell'elenco è il nostro fratello non c'è di tra l'anni sessantaquattro ecco morto ecco questa notte insieme con l'ultimo e tutti gli altri che i giorni scorsi eccoci gli attiviamo ecco per mente la misericordia e l'approccio del Padre in quella speranza che è la speranza della Pasqua che anche la morte non è però l'ultima parola perché l'ultima parola sarà sempre per tutti in quel particolare per loro la parola della Vesce l'eterno riposo dona loro Signore splenda ad essi la luce perfettua ripose in pace Amen l'eterno riposo dona loro Signore prenda ad essi la luce perfettua riposi in pace Amen l'eterno riposo dona loro Signore prenda ad essi la luce perfettua riposi in pace Amen Amen il Signore speranza eccoci sostenono Signore che 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 Grazie per la visione!